Molti di voi ieri sui social mi hanno chiesto di dire la mia sul discorso di Nicola Sbonfanti che sembra essere in orbita a Torino. Innanzitutto mi scuso veramente tanto per la voce, però purtroppo il freddo ha avuto anche un brutto effetto su di me. Appunto per questa mia difficoltà, mi raccomando, iscriviti al canale, lasciate un like e innanzitutto appunto bentornati sul canale dove l'unica fede calcista è quella verso il calcio stesso. Cercherò di essere il più breve possibile anche perché ripeto, è veramente tosta per me non registrare ma appunto il Torino è stato accostato a Nicola Sbonfanti, o meglio Nicola Sbonfanti è stato accostato al Torino. Non vi vado a presentare Bonfanti perché è un giocatore già conosciuto che gioca in B appunto con il Modena centroavanti classe 2002 ex Inter che appunto è approdato al Modena nell'estate 2021 addirittura da svincolare. Un giocatore di 178 cm, di ottima muscolatura, veramente ben sviluppata, che comunque fa dell'agilità, delle visioni di gioco e del suo sapersi muovere nella rigore, il suo marchio di fabbrica. A livello fisico l'unica cosa che mi sento dire è che bisogna stare attenti perché secondo me lui è una fisicità che faccio esempio si infortunia un mesetto se non si sta dietro a un certo tipo di programma di alimentazione questo qui in grassa. Ho quel tipo di fisicità secondo me alla Tevez, per dirti, non magari così diciamo enfatizzata, però ecco ha quel tipo di fisicità. Quindi ripeto, magari è roba che mangio un po' nel McDonald in più e tende un pochino a diventare un po' più chiatto. Quindi insomma, questo aspetto va sicuramente valutato. È un giocatore che a me piace tanto, anche perché sa giocare con vent'anni in piedi, è molto smaliziato, vive per l'area di rigore. Ha buoni tempi di gioco, sia di passaggio che comunque di inserimento, nonostante non sia un bronzo di riace fisicamente e anche bravo di testa, si sente che ha fiuto per il gol, si sente veramente tanto. Si parla ora quindi di Torino, però prima di contestualizzarlo al Torino, perché comunque mi è stato chiesto appunto di dire la mia su questa, su questo aspetto del discorso, faccio un piccolo pergresso. Nel gennaio 2023 Nicolás Bonfanti è stato richiesto anche dal Sassuolo. E sembra che il Modena, grazie anche insomma su DS Vaira, che insomma ci ha visto lungo con Bonfanti, abbia rifiutato delle proposte inferiore ai 5 milioni di euro. Quindi si presumo che la base d'asta parta da 5 milioni di euro. Non è un costo alto fondamentalmente, anche perché comunque è un investimento che tu puoi fare su un giocatore giovane. Quindi, come lo vedrei al Torino? Al Torino potrebbe fare tranquillamente, anzi mi ricorda molto un ex attaccante Granata, che ha fatto la storia del Torino, un certo Marco Ferrante. Perché di fisicità, bene o male siamo più o meno simili. Quindi, stesso vizio del gol, stesso fiuto per il gol, attenzione, di Bonfanti. Io non vado ad analizzare le sue 20 partite in totale con se goli un'assist di questa stagione. Bensì valuto le potenzialità, le caratteristiche del calciatore, se possono essere utili a un Torino. E per un Torino che ha tanta fame di gol, un giocatore delle caratteristiche di Bonfanti potrebbe essere veramente ottimale. Però c'è da tenere conto di una cosa, che al Modena gioca in tandem con un Diav 191 cm e un Falcinelli 186 cm. Quindi, quando è che rende meglio Bonfanti? Quando tu gli dai una boa attorno alla quale girare. Un po' come se facessero una sorta di perna, un movimento armonico tra prima punta e seconda punta, che vanno incrociarsi, vanno intersecarsi, queste cose qui. Se il Torino volesse, insomma, investire su Bonfanti, può farlo, però, insomma, che si ricordi questa cosa. Ecco, un Sanabria ce lo vedessi anche no. Ci potrebbe andare, ecco, meglio magari un Belotti, un attaccante come Belotti, potrebbe mettersi come puntero davanti e fare appunto questo gioco di pianeti doppi, no? Come il sistema Terra-Luna, no? E appunto con Bonfanti. Quindi come caratteristiche ci sta in pieno. 5 milioni di euro, insomma, ottimo prezzo, secondo me, a patto che poi giustamente ci si investe a livello di tempo, a livello di lavoro, a livello tecnico, tutte queste cose qui. Però il Torino, qualora, deve fare in fretta. Perché io vi voglio ricordare che è il procuratore di Bonfanti. La TMP Soccer. Quindi, stiamo parlando di Tinti. e Tinti ha già molti giocatori al Sassuolo. La squadra che appunto, come vi ho detto poc'anzi, si era già interessata a gennaio 20-23. Come D'Andrea. Come Zortea. Come Russo. Come Romagna. In più, è stato procuratore del capitano storico Magnanelli. Quindi, nel calcio moderno, si sa come questi giochi di rapporti possono essere interessanti, o meno, scusate, possono essere vitali, quasi per una trattativa. Ergo, se il Torino volesse affondare il colpo, lo faccia nei prossimi due o tre mesi. Perché poi si va in estate, se poi si dovesse andare in estate per il trasferimento, e il Sassuolo si fa sotto, è un po' un problema. È un po' un problema perché poi può pendere il rapporto con il procuratore. Dici, senti Tinti, vieni qui, tempori giù un attimino, però portamela a me, eh. Appunto, già perché ci sono rapporti di favore con questo procuratore. Quindi il Torino invito Vagnati ad essere un pochino scaltro. Quindi, se veramente il Sicilio ti punta su Bonfanti per la prossima stagione, che si vada lì, dal Modena, si sgancino quei cinque, cinque più milioni di euro e te lo prendi. Perché sennò potrebbero essere un po'. Degli uccelli senza zucchero, appunto, se poi dovessero scendere in campo anche i rapporti con il procuratore. Quindi, per rispondere appunto a a Meschitti del Torino e di contro rispondere anche a Meschitti del Sassuolo. Come lo vedrei, Bonfanti al Torino, molto bene. Un tifoso del Sassuolo potrebbe chiedermi sì, d'accordo, però gioca due, o meglio, con due attaccanti al Modena e da noi tranquillamente lo metterebbero a fare il vice Raspadone. Quindi, quella sorta di numero dieci barra attaccanti sostegno che colleghi le parti e gioca sul medio, medio-breve passaggio con gli esterni. Comunque, fatemi sapere qui sotto cosa pensate. Vi mando un abbraccione e ciao per il prossimo video. Scusate ancora per la voce, però, purtroppo. Mi sono raffreddato. Ciao ragazzi.